Ciao a tutti, dolci unicorni, io sono Deborah Play, qui sul mio canale Oggi siamo ritornati qui in un nuovo video E come avrete letto dal titolo, oggi faremo una cosa nuova Cioè, tipo, questo vi lascio un saluto time, dove saluto ognuno di voi E iniziamo Faccio comparire la lista tra 3, 2, 1, GO! Eccola qua E iniziamo i saluti Qua c'è scritto saluto time Iniziamo da Marta Style Kawaii, che è mia cugina Ciao, un bacione Dopo Stella Kawaii 08 Ciao, un bacione Dopo Alessia Plast 1 Ciao, un bacione Emily J K Ciao, un bacione Grazi Pirano, ciao, un bacione E infine Domenico Guaiana, ciao, un bacione Iscrivetevi a tutti questi che ho salutato Ah, Emily J K Eppure Una mia cugina Che l'ho detto quasi un miliardo di volte Comunque Oggi Ho salutato Sei di voi E se volete essere salutati Aspetterete il prossimo saluto time E mi consiglierete con che cosa lo dovrò fare Tipo, perché Questo qua è il nostro primo saluto time Che tipo, non l'ho fatto tipo con niente Perché I saluti time Di solito si fanno tipo Tipo Fai il saluto time E ogni E ogni E ogni Unicorno Io vi chiamo sempre unicorno Unicorni Mangiamo una caramella Per esempio Non lo so Poi decidete voi con che cosa lo dovrò fare Comunque Questo è il video Spero che questo saluto time Vi sia piaciuto Lasciate un pollice in su Iscrivetevi al canale Condividete con tutto il mondo E ciao Un bacione Al prossimo video